Signori, noi volevamo invitare chi di voi vuole accendere il telefono cellulare per portare una nostra testimonianza che vuole essere una riflessione, una riflessione profonda da condividere. Quindi chi vuole può accendere il cellulare per dare una testimonianza, anche di voi che siete a teatro, la vostra testimonianza fisica, di quanto siate distanziati, di come siate stati in questo luogo. Questa non vuole essere una provocazione, non vuole essere una polemica, è solo l'invito a riconoscere un altro punto di vista, a fare una riflessione. I teatri, noi siamo tutti responsabili, siamo tutti quanti responsabili di quanto sta accadendo e la responsabilità di ognuno salva l'altro, e noi questo lo sappiamo. Così si sono comportati i teatri, i posti, tutti i luoghi dell'arte dal vivo. I posti sono sempre stati sanificati, ognuno vi ha preso la temperatura, le persone assistono allo spettacolo con la mascherina, non sono dei luoghi pericolosi, non si sono rivelati tali. C'è un documento dell'ente dello spettacolo che racconta che su circa 350.000 spettatori, cioè tutti gli spettatori che dalla fine del lockdown fino ad oggi sono intervenuti negli spettacoli dal vivo, c'è stato un contagiato. Voi ne siete la testimonianza. Da domani i teatri saranno chiusi fino al 24 novembre. Temiamo che questa data possa essere procrastinata. per una giusta e legittima, un giusto e legittimo timore. Ma i teatri e tutti i gestori dei teatri, dei luoghi dell'arte dal vivo e delle sale cinematografiche si sono sempre adoperati dalla fine del lockdown a obbedire e a rispettare le regole che tutti noi rispettiamo. Questo è un invito a riflettere su quanto di questi tempi l'arte possa servire. Stiamo vivendo dei tempi difficilissimi, dei tempi dolorosi. Questi sono i luoghi nei quali noi possiamo trasformare le nostre paure, condividere delle storie, elaborare i nostri dolori. Perché nella realtà possiamo, in qualche modo, una volta trasformate le nostre paure, portare quello che abbiamo scoperto, assistendo alle storie, agli spettacoli, anche agli altri. E l'arte, è lo scopo dell'arte, è quello che rende più sopportabile il dolore. Se noi ci leviamo questa possibilità di condividere i nostri sentimenti, le nostre riflessioni, in qualche modo è come se chiudessimo la finestra ai nostri sogni. E non sono questi i tempi per farlo. Perché diventiamo persone arrabbiate. Diventiamo persone separate, nuclei separati. Ognuno a vivere le proprie solitudini, le proprie paure e i propri dolori. L'unica possibilità che abbiamo è quella di lasciare aperti i teatri, le sale da concerti, le sale da danza, le sale cinematografiche. Si sono sempre rispettate le regole, fino in fondo, che si chiudano allora i teatri, le sale cinematografiche, le sale da concerto, che non rispettano le regole. Questo non è un luogo di assembramento disordinato. Questo è un luogo, è un centro di aggregazione civile. E tutti quanti siamo capaci, tutti voi che siete venuti, siete già persone responsabili. Perché avete il desiderio di condividere storie con noi. E questo è importantissimo, questo già di per sé è un indole che racconta di persone che hanno voglia di elaborare quanto sta accadendo. Abbiamo voglia di capire come ci insegna il teatro, la musica e la danza, perché viviamo, perché si muore, perché amiamo, perché non siamo corrisposti, perché quando arriva un dolore non sappiamo reagire e perché in qualche modo qualcuno ci racconta come reagire o come è sopraffatto dal dolore. Tutto questo è concreto. Noi non siamo soltanto degli organismi viventi, siamo dotati di spirito e di anima. Mai, come adesso, ne abbiamo bisogno. Vi prego, portate questa testimonianza. Non chiudiamo la finestra del sogno. Non la chiudiamo, non oggi. Non oggi. Grazie. Grazie.